Dicevamo che il silenzio è un segnale che esprime ambiguità, per cui i valori comunicativi del silenzio possono essere sia positivi che negativi e li possiamo suddividere in quattro categorie. Possiamo dire che il silenzio unisce due persone in una profonda condivisione di valori, di effetti, di stati d'animo, oppure separarli attraverso l'odio, l'ostilità. Un altro aspetto da considerare è la valutazione che diamo al silenzio. Il silenzio può indicare consenso, approvazione oppure segnalare dissenso e disapprovazione. Quindi in sostanza quando siamo in silenzio possiamo annuire, come si dice generalmente, quindi indicare consenso oppure non parlare, tacere e questo magari può indicare una sorta di disapprovazione. e inoltre indica anche la rivelazione, nel senso che può rendere manifesto qualcosa a qualcun altro o essere una barriera non chiara o scura rispetto ad una data informazione. Assume anche una funzione di attivazione perché può indicare una forte concentrazione mentale o anche il contrario, cioè segnalare una dispersione mentale. In generale il silenzio è associato a situazioni sociali in cui la relazione fra i partecipanti è incerta, poco conosciuta, vaga o ambigua. Se ad esempio ci troviamo davanti a persone che non conosciamo, non riusciamo a interpretarne le azioni, molto spesso siamo in silenzio, non parliamo. Oppure situazioni sociali in cui c'è una netta distinzione di status e ruoli di potere, quindi c'è una simmetria nello status e nei ruoli tra i partecipanti. Infine il silenzio presenta importanti variazioni culturali. Nelle culture occidentali, che sono culture più incentrate sull'individualismo, in genere noi siamo abituati a parlare velocemente, senza pause. Le pause possono indicare, possono rappresentare insicurezza, minaccia, mancanza di cooperazione, eccetera. Quindi il silenzio è un pochino che ho vissuto in modo...